Ciao ragazzi, oggi sono qui con un nuovo video! Oh! Cosa sta succedendo in questi giorni? Ah, scuola mia! Incontri, scontri, scuola famiglia! Maledetti, incontri, scuola famiglia! Tutto, ok? Tutto questo, sì. Se vi ricordate, io avevo già fatto un video su incontri, scontri, scuola famiglia, quindi ve lo lascio. Sia qua in descrizione, sia... Quello pallino info... Mi sa che si fa così, non lo so, vedrò come si fa. Comunque, oggi ho deciso di presentarvi un bellissimo sketch realizzato da me in persona. Ah, ragazzi, sto diventando anche brava! E se nessuno sapesse di questi incontri, guardate lo sketch. Mamma! 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 Mamma, dove sei? Oh, sto provando a accedere. Va bene. Va bene. Ci sentiamo Luisa Devi dirmi qualcosa? No Sei sicura? Sì Sicura? Sì 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 Mi ha chiamato la tua professoressa Dice che sto pomeriggio c'è l'incontro a scuola famiglia Quando pensavi di dirmelo? Oggi Ma che dici? Non è vero Rimp Povero senetto Un po' di sana frutta? Noo, meglio la crostata Spero che vi sia piaciuto Perché io mi sono davvero divertita Cioè avevo già pensato di farlo Un po' di tempo fa Però poi non l'ho realizzato Allora ho detto È il momento giusto Realizziamolo Stiamo a gennaio Abbiamo tantissime cose da fare Facciamolo Perché no? Comunque volevo far vedere anche le mie bellissime unghie Sono verdi e non sono nere Spero che vi sia piaciuto Secondo voi Cosa succederebbe dopo? Cioè Scrivetemi qua sotto Secondo voi cosa potrebbe succedere? Ovvero Vanno all'incontro? Oppure non ci vanno all'incontro? Boh Ciao Ciao Come solito vi ricordo di lasciare un pollice in su Lasciate Di iscrivervi al canale E di attivare la campanellina Che è È tornata la campanellina E ci vediamo il prossimo video Ciao